Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Gaia e nel video di oggi vi parlo di un argomento per me molto importante. Infatti domani sarà il 25 novembre, ovvero la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. È una giornata in cui si cerca di ricordare le vittime di violenza, ma soprattutto di creare coscienza e consapevolezza e di comprendere perché al giorno d'oggi ci sia ancora così tanta cattiveria nei confronti delle donne. Io non sono un'esperta in materia, però una cosa che so fare è leggere, una cosa che mi piace fare è leggere ed ogni volta che trovo un argomento sulla mia strada che mi interessa cerco di approfondirlo con dei libri. Per questa ragione oggi sono qui per consigliarvi 10 libri che secondo me sono utili a comprendere la violenza sulle donne, non a giustificarla ma a comprenderne i meccanismi. Perché sia violenti contro le donne? A questa domanda cercano di rispondere i movimenti femministi che cercano di indagare la cultura patriarcale, i suoi meccanismi, i meccanismi che spingono spesso gli uomini a credere le donne come un oggetto che si può possedere, che si può controllare e renderle quindi oggetto di violenza. Quello che posso fare quindi io nel mio piccolo è consigliarvi 10 libri che mi sono stati utili a capire la violenza contro le donne perché esiste e che cosa si può fare per eliminarla. Direi quindi che parto subito, di solito quando parlo di libri femministi parto sempre con un libro che secondo me è super accessibile ed è un ottimo libro per iniziare ad approcciarsi a questo pensiero e questo modo di vedere il mondo. Il libro in questione è manuale per ragazze rivoluzionarie, è un libro che io ho consigliato davvero tantissimo sul canale e ci tengo a specificare che non si tratta di un libro esclusivamente dedicato a un pubblico femminile, lo può leggere davvero chiunque e io spero che a guardare questo video non ci siano solo donne ma anche uomini che sono interessati a capire meglio questo argomento. Questo libro sicuramente è ottimo per iniziare, è ottimo per gettare le basi per certe riflessioni. Quando si parla di violenza contro le donne per me è importante parlare di patriarcato, sapere che cos'è e sapere come questo agisce. Il patriarcato è una cultura che ci circonda, in cui noi siamo cresciuti, una cultura che ci ha educato, educate ed è una cultura da cui è difficile distaccarsi e dissociarsi. È una cultura che spesso spinge la donna a rendersi quasi invisibile di fianco a un uomo, è una cultura che accetta che le donne vengano trattate in modo inferiore rispetto agli uomini, è una cultura che giustifica gli atti di violenza contro le donne, le parole violente contro le donne, qualsiasi sopraffazione nei confronti della donna ed è una cultura che porta inevitabilmente a atti ancora più forti e violenti nei confronti delle donne. Per questo secondo me è importante sapere che cos'è ed è importante saperlo riconoscere e libri come questo aiutano a individuarlo. Il secondo libro che vi consiglio, anche questo l'ho consigliato tantissime volte ma non smetterò mai di farlo, è Invisibili di Caroline Criado Perez. Questo libro è un saggio a tutti gli effetti che racchiude in sé tantissimi dati, infatti il sottotitolo è proprio Come il nostro mondo ignora le donne in ogni campo dati alla mano. Quindi in poche parole si cerca di raccontare come le statistiche spesso non considerano il genere quando si tratta di raccolta di dati. Questo è un fattore importante perché in questo modo le analisi in qualche modo possono essere fuorvianti e possono spingere in soluzioni sbagliate rispetto a quelle che potrebbero essere più utili e vantaggiose per tutti. È un libro anche importante perché parla di come questo può essere violento nei confronti delle donne. Prendere i dati nel modo sbagliato può generare ripercussioni davvero negative a livello fisico, a livello psicologico per le donne. Pensiamo ad esempio la medicina. La medicina è un campo in cui le donne spesso vengono ignorate ma non come lavoratrici ma proprio come pazienti. Infatti spesso i sintomi ad esempio di un attacco cardiaco nelle donne rispetto che negli uomini è differente e la medicina ha studiato ben poco queste differenze e ancora oggi facciamo fatica a riconoscerle e a riconoscere i sintomi delle malattie negli uomini e nelle donne. Oppure quando si testano le macchine il corpo femminile spesso non viene preso in considerazione ma viene preso in considerazione come media statistica diciamo il corpo maschile per cui le macchine continuano ad essere più sicure per gli uomini che per le donne. Io insomma vi ho fatto così qualche esempio ma questo libro è davvero molto completo e porta con sé tantissimi 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 esempi con tanti dati e soprattutto suggerisce anche delle soluzioni a queste mancanze e per questa ragione secondo me è un libro imprescindibile. Passiamo poi un'altra tematica molto spinosa che è quella dell'aborto. Quando parliamo di medicina parliamo inevitabilmente di corpo e inevitabilmente parliamo di autodeterminazione del corpo. L'aborto in Italia è ancora una questione molto spinosa e l'ho capito bene leggendo obiezione respinta di Cinzia Settembrini. Obiezione respinta è un collettivo in realtà che nasce in Italia appunto per sopperire agli obiettori di coscienza che sono il 70% dei medici in Italia se non erro. Insomma questo collettivo cerca di mappare tutte le cliniche private, gli ospedali, le farmacie obiettrici di coscienza e lo fa online sul suo portale. Oltre a fare questo mette in contatto donne e raccoglie le loro esperienze per cercare di sensibilizzare appunto all'obiezione di coscienza, cercare di spiegare come mai sia così dannosa, cercare di creare appunto questa voce collettiva di rivolta contro un sistema che non funziona come dovrebbe. Anche perché l'aborto in Italia è legale ma non lo è davvero, cioè nel senso che poi effettivamente se una donna vuole abortire gli ostacoli che deve superare sono davvero tantissimi. Ho finito di leggere il libro praticamente ieri e sono rimasta scioccata. Il libro racchiude diverse testimonianze personali di donne che hanno avuto difficoltà magari a reperire in farmacia la pillola del giorno dopo perché non gli veniva concessa oppure quando arrivava il momento di abortire non sono riuscite a farlo magari perché si sono trovate di fronte magari del personale che le ha respinte o che le ha giudicate o che le ha trattate male. Insomma ci sono tantissimi tantissimi motivi che rendono l'aborto in Italia difficilmente accessibile. Poi può esserlo, cioè nel senso che lo è, ma non è la maggioranza dei casi. Vi consiglio questo libro perché la violenza contro le donne è anche questa cosa qua. Può essere violenza contro le donne è anche il linguaggio che si utilizza parlando con loro e parlando di loro e in questo caso il mio consiglio è Sta e Zitta di Michela Murgia. Si tratta di un libro molto breve ma che raccoglie tutto quello che è il linguaggio tipico e consueto che si utilizza quando si parla con le donne o quando si parla di loro. L'esempio lampante è proprio il titolo del libro che è Sta e Zitta, quando quindi un uomo, in questo caso, si riferisce a una donna chiedendole di tacere perché quello che ovviamente dice una donna sembrerebbe meno importante di quello che dice un uomo. Mi capita spesso di assistere a scene del genere e mi capita molto più raramente di assistere a scene in cui avviene il contrario, ovvero in cui ha una donna a chiedere di tacere un uomo. Mi è capitato in un video YouTube, tra l'altro, di un grandissimo YouTuber italiano che non citerò però vabbè, che diceva proprio alla moglie stai zitta e lei tranquilla stava zitta. Ovviamente gli diceva di stare zitta dopo che lui gli aveva posto una domanda, quindi capite il momento proprio. Ma purtroppo, senza sorridere tanto, spesso alle donne viene chiesto di tacere, cioè spesso alle donne viene chiesto di non dire niente, non farsi sentire, rimanere appunto invisibili, non farsi notare troppo, non far valere troppo la propria posizione, non far valere troppo la propria opinione e non chiedere di essere ascoltate. Questa è violenza perché ovviamente questa poi si ripercuote all'interno di relazioni tossiche dove il compagno intima alla compagna di evitare magari di parlare con i suoi familiari, di evitare di parlare magari con le sue amiche, di evitare di parlare di certe cose, di stare appunto zitta. Quindi uno stai zitta rappresenta molto di più di una semplice richiesta da parte di un uomo ed è anche questa violenza. I libri di cui vi ho parlato adesso, soprattutto gli ultimi due, quindi Obiezioni Respinta, Stai Zitta, ma anche Manuale per Ragazze Rivoluzionarie, sono dei libri che raccontano la realtà italiana, quindi una realtà molto vicino alla nostra che ci aiuta a comprendere le dinamiche del nostro paese, però è importante sapere che ci sono zone del mondo in cui le donne hanno fatto ben pochi passi avanti e per questo vi consiglio anche l'Atlante delle donne che è la più aggiornata e accurata analisi di come vivono le donne nel mondo. Si tratta di una raccolta di infografiche nelle quali appunto vengono rappresentate le condizioni femminili nel mondo, da come procede l'avanzata nel mondo del lavoro a con quanta difficoltà o facilità hanno accesso le donne ai servizi sanitari come ad esempio all'aborto, fino ad arrivare appunto anche alle leggi che sono presenti in alcuni paesi che sono estremamente retrograde come ad esempio il matrimonio forzato oppure il delitto d'onore, c'è davvero davvero tantissimo in questo libro. Si parla anche di femminicidio, si parla di stupro, si parla di tutte queste cose e ne si parla con una visione appunto internazionale. I libri che vi ho consigliato fino adesso sono tutti abbastanza recenti ma voglio fare anche un passo indietro perché secondo me c'è un altro libro che è molto utile a capire la violenza sulle donne che è Il secondo sesso di Simone de Beauvoir. Si tratta di un libro pubblicato a metà del Novecento, quindi di un po' di tempo fa, ma analizza molto bene la condizione delle donne nel corso dei secoli e nel corso soprattutto dell'Ottocento. Infatti Simone de Beauvoir cerca di raccontare le donne e le racconta come il secondo sesso. Il secondo sesso in quanto non sono il primo, sono sempre considerate dopo e sono sempre considerate meno. La frase celebre di questo libro è donna non lo si nasce, lo si diventa. Con questo Simone de Beauvoir vuole dirci che diventare donne è un processo culturale influenzato dalla società e non è una cosa che ci viene attribuita alla nascita, non è una componente all'interno del nostro DNA, una cosa biologica che ci rende magari vulnerabili, che ci rende invisibili, che ci rende sempre seconde appunto agli uomini, ma è una cosa che ci aiuta a essere, ci spinge ad essere la società. Per queste ragioni lei cerca di raccontare un po' come questo aspetto culturale possa influenzare l'essere di una persona, lo racconta davvero in tantissime pagine, perché sono circa 800 pagine di libro. Questo sicuramente è uno dei libri femministi più conosciuti al mondo e appunto io ve lo volevo consigliare. Vi voglio consigliare anche Il corpo elettrico di Jennifer Guerra. Ho letto da poco questo libro che mi ha colpito davvero molto, io l'ho ascoltato in audiolibro, perché è un libro appunto in cui si parla del corpo delle donne e il corpo delle donne come corpo politico che può opporsi e opporre resistenza a ciò che accade appunto nel mondo e nel proprio paese. È un bellissimo libro che racconta appunto le donne come questa energia che può davvero trasformare le cose. Vi voglio leggere una parte di questo libro perché secondo me è molto incisiva e riassume bene un po' ciò che ho imparato da questo. Caro patriarcato, le colpe che ci attribuisci non sono del nostro corpo. Hai sbagliato tutto. Non siamo arrabbiate perché abbiamo le nostre cose, perché siamo isteriche o perché non scoppiamo abbastanza. Non sono gli istinti misteriosi a guidarci, nei nostri ormoni. Come diceva Simone de Beauvoir, non siamo nate donne, lo siamo diventate. Se siamo arrabbiate è perché abbiamo scelto di esserlo. Siamo arrabbiate perché le nostre vite traboccano di desiderio, un desiderio che viene costantemente represso. Così cerchiamo spazi, occasioni, una voce per esprimerlo. Caro patriarcato, ci dici in continuazione che dovremmo essere contenti di come stanno le cose, che noi stiamo esagerando. Ci sono le quote rosa, i sussidi di maternità, le leggi di tutela, ma questo non ci basta. Vogliamo il pane, ma anche le rose e non le chiediamo a te, ce le prendiamo da sole. Io sono profondamente d'accordo con Jennifer Guerra quando scrive questo perché se le donne sono arrabbiate, c'è una ragione e io sono stufa di sentirmi dire che sono arrabbiata appunto perché ho le mie cose, che sono arrabbiata perché sono isterica magari, perché me lo sono sentita dire, penso come tantissime altre donne, molte volte nella mia vita e a volte ci sono delle ragioni per cui noi siamo arrabbiate, mi viene in mente obiezione respinta. Il libro di cui vi parlavo prima, ci sono donne arrabbiate perché non possono accedere ai servizi che dovrebbero essere dati loro di diritto e a volte per reprimere appunto questi nostri istinti di rabbia ci priviamo dei nostri diritti perché ci è stato insegnato, come ci diceva Simone de Beauvoir appunto, lo si diventa, ci è stato insegnato che una brava donna deve essere una donna che sta zitta, che sta nel suo spazio, che non dà fastidio, che si prende quello che le viene dato e non chiede nulla di più, che appunto deve accettare ciò che le capita, cosa le succede, che deve sempre appunto sopportare, deve essere paziente, deve essere remissiva, deve essere così. Ci è stato insegnato questo e noi diventiamo donne e queste sono le qualità che ci vengono aggiudicate, qualità che noi dobbiamo conservare, dobbiamo alimentare perché sono quelle giuste, mentre la rabbia, la ribellione sono cose che non ci dovrebbero appartenere. Invece io sono profondamente convinta che a volte bisogna alzare la voce, bisogna arrabbiarsi per le ragioni giuste, per le ragioni in cui crediamo e bisogna farsi valere. Un altro libro che parla di questi argomenti, sempre edito in Italia e pubblicato da due autrici italiane, è Le ragazze stanno bene. Questo libro riflette su aspetti molto simili a quelli su cui riflettono i libri che vi ho citato precedentemente. Una cosa che ho notato è che oltre alle solite tematiche ci si concentra molto sul ruolo degli uomini in tutto questo e è la cosa secondo me più interessante del libro. Spesso si fa notare come appunto la cultura patriarcale spinga anche gli uomini ad essere ciò che non sempre desiderano essere, quindi forti, non vulnerabili, che non possono farsi prendere appunto dalle emozioni, che devono essere tutti d'un pezzo. Un ruolo che appunto gli viene assegnato dalla società e che loro non possono o difficilmente riescono a respingere. Abbiamo molte aspettative nei confronti delle donne ma dobbiamo riconoscere di avere anche molte aspettative nei confronti degli uomini che possono diventare aggressivi proprio per le troppe aspettative che noi riponiamo in loro. Infatti se a un bambino viene insegnato che essere forte, essere un duro è una cosa positiva, più probabilmente crescerà appunto con questa convinzione, più probabilmente sarà propenso a essere violento contro ad esempio le donne o comunque chi non rappresenta questo ideale di forza, potere che noi ci aspettiamo da un uomo. Quindi è un libro che riflette molto anche su quest'altro lato della medaglia, quindi ci si aspetta che le donne siano vulnerabili ma ci si aspetta dall'altra parte che gli uomini siano prepotenti, che si facciano valere, che siano uomini di potere, forti, che non hanno paura di chiedere ciò che vogliono e questo insegna appunto già fin dall'infanzia una disparità di genere che difficilmente verrà colmata poi con il passare degli anni e mi è piaciuto molto questo libro per questo aspetto. I prossimi due libri che vi consiglio esulano un po' strettamente dalla violenza di genere ma secondo me rimangono sempre in linea con tutti i valori che porta avanti il femminismo, questi movimenti e sono anche libri che secondo me portano una riflessione molto profonda che si può fare quando si parla di cultura patriarcale e di ciò che questa implica nel nostro modo di relazionarci al mondo. Il primo libro è Il mostruoso femminile, anche di questo libro ho parlato molto negli ultimi mesi, me ne rendo conto, però è un libro davvero che mi ha aperto la mente su tanti aspetti perché è un libro che cerca di analizzare la cultura popolare che passa attraverso film, che passa attraverso narrazioni all'interno ad esempio di un telegiornale, che passa attraverso appunto il racconto di storie di true crime o passa attraverso dei romanzi, delle storie raccontate più piccole, insomma una narrazione che viene veicolata tramite prodotti con cui tutti veniamo a contatto ed è una narrazione che spesso vede la donna come la parte mostruosa della storia e questo libro analizza questo aspetto mostrando come spesso appunto le donne vengano raccontate come veri e propri mostri, come streghe, come fate, dove più forse all'estero che in Italia le fate sono davvero il male assoluto e la violenza possa essere giustificata nei confronti delle donne proprio perché le donne spesso sono raccontate come qualcosa che va debellato, come qualcosa appunto di nocivo e ci sono davvero tantissimi fatti di cronaca realmente accaduti raccontati all'interno di questo libro che fanno vedere come sia giustificata la violenza da parte di un uomo nei confronti della moglie, nei confronti della figlia, nei confronti appunto di una donna che vive con lui se questa donna viene definita anche da altri come un essere malvagio, maligno che contiene all'interno di sé il male e sono davvero delle storie che non sono rare, cioè sono delle relazioni che non sono rare e che passano davvero anche davanti ai nostri occhi quando guardiamo un telegiornale, quando leggiamo nelle testate giornalistiche che se lui ha compiuto un gesto così violento è perché lei lo aveva esasperato, l'aveva portato all'esasperazione e queste dinamiche vengono raccontate spesso anche nei film, film dell'orrore, film horror in cui effettivamente si vede che se l'uomo è diventato ad esempio un serial killer potrebbe essere proprio perché sua madre quando lui era piccolo l'ha trattata in un certo modo per cui lui poi è cresciuto così dando sempre poi alla fine dei conti la colpa alla donna. È una cosa interessante su cui riflettere e questo libro secondo me lo fa a volte più dettagliatamente, a volte abbozzando un po' di più il pensiero però secondo me è molto utile per dare una spinta anche a questo tipo di riflessione. L'ultimo libro che consiglio effettivamente è quello che c'entra meno con la violenza di genere, l'altro alla fine c'entrava anche molto di più di quanto mi ricordassi ed è Perché non sono femminista di Jessa Crispin. Questo libro è praticamente una riflessione che fa l'autrice nei confronti del femminismo popolare, del femminismo di tutti, del girl power, delle donne per le donne, del io sono femminista scritto sulla maglietta. È una riflessione profonda che lei fa arrivando a non definirsi femminista perché non si riconosce con questa nuova ondata di femminismo. Io innanzitutto ci tengo a precisare che il femminismo come ho già detto più volte nel video non è uno solo ma sono tanti, ci si parla di movimenti femministi perché ce ne sono tanti, sono sfaccettati, ci sono credenze più comuni e meno comuni, ci sono modi diversi di propagare questa presa di coscienza collettiva e appunto anche all'interno dello stesso movimento ci sono voci magari più discordanti. In particolare Jessa Crispin è una voce molto discordante e molto radicale in quanto lei vorrebbe proprio che la società venisse buttata giù e ricostruita, il sistema politico venisse completamente buttato giù e ricostruito per dare spazio a tutti, non solo alle donne ma anche a tutte quelle persone che spesso vengono tagliate fuori dalla conversazione quindi parliamo di persone disabili o persone che sono nate ad esempio in una condizione economica svantaggiosa. Insomma lei cerca di essere molto più radicale nel suo pensiero e critica chi non lo è e chi non fa ragionamenti distruttivi in questo senso. Ecco forse questo libro che è un po' meno centrato nel tema ma appunto ci tenevo a consigliarvene comunque 10 perché tra queste riusciste a trovare magari o qualcosa che non avete letto se già ne avete letto gli altri o comunque a capire qual è l'argomento che vi interessa di più in questo momento approfondire e secondo me è importante approfondire questi argomenti. Fare video di questo genere e fare video delicati quindi io spero di essere riuscita ad esprimermi al meglio e non aver offeso nessuno, non essere stata superficiale e essere riuscita un po' a portare qualcosa di buono nel mondo speriamo e fatemi sapere se leggerete alcuni di questi libri. Io vi saluto e vi auguro tanto bene, ciao!